Nel basso del prodotto, eliminare i due scherzi. Limare i due parti plastiche. Limare il back cover. Per ridurre il prodotto, utilizzando un ruolo flat, pressa sull'occhio. L'apertura il prodotto. Detachare il connettore. Per ridurre il pannello, pressa sull'occhio. Per ridurre i modelli di Canon e Pixa, potrebbero avere un po' diversa instruzione. Nel basso del prodotto, pulire i due tappi. Riempire il pannello. Prima di rimuovere il pannello. Per ridurre l'occhio upper, presa sui due tappi usando un filo flat. Rilassare questo occhio. Puoi rilassare l'occhio upper cover del printer. Ora avete accesso alle parti interne della macchina. Questo è l'occhio encoder. Per ridurre la macchina, detaccio tutti i connettori. Per ridurre la macchina. Per ridurre la macchina. Per ridurre la macchina. Per ridurre la macchina. Per ridurre la macchina, ridurre la macchina. Per 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 ridurre la macchina.